al museo delle terre bibliche di Gerusalemme, è un museo che tratta delle culture medio orientali antiche e da lì possiamo capire anche molte cose riguardo alla società contemporanea, il conflitto, uno dei progetti che abbiamo sviluppato in questo museo riguardava la femminilità delle donne nel mondo antico e lì è incominciato il conflitto e io sono sicura che le donne hanno tutta la forza per portare anche ad un'altra strada, una strada più sicura e diversa. Abbiamo anche sviluppato un progetto sulla figura di Abramo con ragazzi di 13-12 anni, con tutto il viaggio che ha fatto per le terre del Medio Oriente antico e per poi parlare delle nostre identità, cosa possiamo fare per noi, cosa possiamo fare per gli altri, sempre nella nostra società. Quindi ho ricevuto una possibilità di trasferirmi nel sud di Israele, a Berceva che è considerato un posto periferico nelle società israeliane per costruire una scuola arabo-israeliana. Per me era molto importante, due scuole sono effettivamente una, certo la società ebraica e la società araba sono due società molto diverse, sono due società anche separate nel sistema educativo. C'è una sorta di segregazione e quindi sappiamo l'uno dell'altro, ciò nonostante. Quando si studia in un sistema educativo separato non chiedi dell'altro e non sai dell'altro. La seconda scuola che è stata costruita è la scuola che effettivamente lavora, per questo cambiamento sociale in quanto araba israeliana. Non ho pensato due volte a questa possibilità e dopo dieci anni di Gerusalemme ho preso e me ne sono andata. Certo è stato difficile perché ho incominciato una carriera e poi l'ho lasciata per rincominciare qualcosa di nuovo completamente. Ora da un punto di vista sociale è molto più semplice accettarmi, non che io accetti la società, ma è più semplice per la società accettare me. Siamo al terzo anno di questo esperimento di scuola arabo-ebraica Bersheva che è una città, la maggior parte della popolazione che ci vive è orientale, ebraica orientale, ci sono molti beduini. Io non rappresento la donna araba musulmana che viene dal nord e nemmeno da quella che viene da Gerusalemme Est. Io rappresento ogni donna, anche le donne beduine. anche la donna beduina che solo da tre anni, da quando sono a Bersheva, incomincio a capirla, a capire la sua mentalità, anche il modo di pensare di questa società. Ora vediamo che i bambini arabi e ebrei insieme incominciano a conoscersi insieme e assieme apprendono cose, hanno un'educazione comune senza essere in due posti diversi e in due situazioni diverse. In questo modo si può parlare di se stessi e degli altri. Quando sono venuta qui ho lasciato tutti quanti molto occupati con delle attività. Ora si stanno per celebrare il giorno dell'indipendenza per Israele, la Nakba per la Palestina e siamo quindi molto occupati a cercare di introdurre e di includere tutte le narrative sociali in modo da sviluppare l'empatia di ognuno per l'altro. Qui non parliamo di scoprire un'identità, qui parliamo di empatia, sentire il mio discorso e sentire il discorso degli altri. ciò che è differente tra i bambini e gli adulti è che gli adulti vengono con un'identità già ben definita e con paura. I giovani invece si avvicinano molto tranquillamente a imparare dell'altro. Sono molto tranquilli e questo è il bello di questa scuola. Lì parlano la lingua più comune per loro. e lì io mi ritrovo. Io mi ritrovo in qualsiasi parte di me stessa, come donna, come madre, come donna impegnata nell'educazione. E' qualcosa che è infinito. Cioè si può dire che noi continuiamo a lavorare su questo ed è solo l'inizio. C'è una speranza, ma c'è qualcosa che noi piantiamo il seme e questo è solo l'inizio. Allora io spero di poter rispondere alle vostre domande. Più avanti e grazie. Devo dire che erano tutte molto emozionate e dicevano chissà che posso raccontare, che devo raccontare, come lo racconterò. Io penso, io stessa che vivo in Israele, sono molto emozionata di sentire quello che questi signori stanno raccontando. Mi viene in mente una poesia bellissima di una poetessa, Rachel, che viveva sul lago di Tiberiade, che scrisse Io so raccontare solo di me stessa? Io ho un mondo piccolissimo, piccolo come quello di una formica. E Rachel è stata una delle più grandi poetesse di Israele. Ognuna di queste donne, se ci fate caso, dicono che non ho mai guardato me stessa, non so chi sono. Faccio perché mi viene dall'anima, come ha detto adesso. Mi viene dall'anima, mi viene dallo spirito. Probabilmente ci viene da dentro, da qualcosa che ti viene da dentro di dire devo fare qualcosa, devo assolutamente fare qualcosa per far sì che l'avvenire esista. Perché vivi una vita precaria e apri all'improvviso gli occhi e dici devo fare qualcosa per avvicinare la gente intorno a me. Devo fare qualcosa perché non posso vivere solo con il metro e mezzo di aria intorno a me. E sentiamo adesso Bassima Drusa. Anche lei è una storia di una donna che ha fatto tante lotte per vivere nella piccola comunità alla quale appartiene. Shalom, mi chiamo Bassima Khalabi, ho due figlie. Io mi sto emozionando però ok, passerà. Sono due figlie, mi occupo di argomenti quali la comunicazione e l'educazione. voglio molto raccontarvi della società Drusa da cui vengo. I Drusi sono una piccola società che fa parte dell'Islam, una seta che è nata nell'undicesimo secolo. sono presenti più che altro in Siria, in Libano, una piccola parte anche in Giordania. E' possibile trovare Drusi anche in America e in Australia. E' una comunità molto piccola, circa un milione e mezzo in tutto il mondo. In Israele sono undicimila persone, però fanno molto chiasso. Il primo rappresentante dei Drusi si chiama El-Tarasi, colui che poi ha sviluppato la religione drusa. Dopo di lui è venuto al Khalifa, al Fatimi, al Haqqam al Bremla, dall'Egitto. Sono usciti dall'Egitto e hanno incominciato a sviluppare questa religione. Cos'è interessante in questa religione? E' interessante che è segreta. Interessa a tutti, anche a me. E' una religione segreta ed anche crede nella metempsicosi, nella reincarnazione. L'anima è la parte più importante, il corpo non è importante, il corpo è un complemento. E questo è ciò che molto interessa le persone. Credo che vi ricordi il buddismo, la fede buddista. Noi, come nostra religione, abbiamo preso molte cose dalle altre religioni. Ora, io sono qui per parlare di me stessa come donna drusa, che significa essere drusi all'interno di una società araba. La donna nella società drusa ha l'eguaglianza dei diritti, può divorziare quando vuole e se vuole divorziare deve dare all'uomo metà di ciò che lei possiede. E quando l'uomo divorzia deve dare alla donna metà dei suoi possedimenti. Ossia per il divorzio non c'è problema. I genitori non sono quelli che decidono, è la donna che decida. Ora, io sto parlando della religione, ma della realtà è diverso perché tutto questo conservatorismo nel Medio Oriente, il controllo sociale, in realtà porta la donna ad essere in secondo piano e convincono le donne a non divorziare e a rimanere a casa. Alle volte è un po' difficile e porta anche a guerra e parlerò di questo anche. E ovviamente anche per quanto riguarda i diritti, la donna è dipendente dall'uomo. Vi racconterò un racconto che mi riguarda personalmente e poi possiamo proseguire. Io quando ero una bambina avevo, diciamo, la scuola elementare, andavo a scuola e poi alle medie e poi alle superiori. Quando ho finito le scuole superiori i miei zii, io vengo da una famiglia religiosa, il mio padre no, ma i miei zii sì, mi hanno detto, bene, ora basta, adesso tu rimarrai a casa ai 18 anni e ti sposerai. Chiaro, io non volevo sposarmi e mio padre voleva che io studiasse all'università e quindi ho detto, cosa cosa studio? Studierò un argomento che mi potrà aiutare nella vita e quindi ho studiato filosofia. E vi dirò il perché, perché la nostra religione prende molti principi da Socrate, Platone e quindi la fede, i pensieri, la Weltanschauung, è composita da varie credenze filosofiche e religiose. Ora, io mi definisco come babushta, come una bambola russa, ossia una donna drusa all'interno della società drusa, all'interno di una società araba, all'interno di uno stato israeliano. In una società molto religiosa, le donne non escono di casa senza un accompagnamento del fidanzato, del marito, del fratello. Non è chiaro di per sé che la donna drusa sia parte della società.